buona domenica ma di tutto pollicione iscrizione e campanella voi lo sapete che il sabato la domenica cerco di fare video un po più leggere se c'è l'occasione tra l'altro sto preparando i video da far caricare durante il periodo in cui sono in vacanza e sono tutti i video di storia film libri quindi sapete già cosa ci sarà oggi ci facciamo un po del meglio che ti stai zitto cercando di essere molto compresse perché se sto a discutere tutto dal video dura 40 ore diventa una cosa complicata partiamo con zanno che dal palco io con quelli non ci parlo si riferiva la chiamata tra salvini e letta duco a cerco un fronte in merito al di elezza ecco di di elezza però è quella fonte l'ho sentito da bordoni che come fonte mi sembra sì non è un giornalista un comico ma è un po più attendibile di certe altre fonti diciamo così che non abbia zanno non abbiamo dovuto confrontarsi con il condirettore di libera l'argomentazione è quella loro la pensano come orban e ormai la testa di cazzo lo sappiamo tutti che abbiamo una testa di cazzo vabbè la pensano come orban io con questi non ci parlo minchia ma scusa ma non parlavi di uguaglianza integrazione accoglienza inclusione così c'è lo scopo del decreto quello no tutelare le persone che non vengono incluse che sono oggetto di determinate cose a causa di quello che sono e quindi l'elemento fondante è inclusione tolleranza io non poi io non ci parlo perché non la pensano come me ragionamento che ha fatto questo io con loro non ci parlo per una presa come me cazzo sai chi ragionava così il tizio che portava la divisa coloro cioccolata andata male camminavano come le papere e che quando giravano i cinque minuti facevano i barbecue coi libri uguale anche loro dicevano quello non la pensa come me non lo faccio parlare o degli ottimi resort in cui mandarli diciamo così e nel caso quello che hanno fatto ci facciamo il barbe qui il principio di fondo è lo stesso zanna impara un po dalla storia perché queste cose qui sono figli della cansa incontro quello che è successo nel passato invece di studiarlo per capire gli errori non rifarli lo vogliamo togliere così quegli errori di faremo ancora perché se non conosciamo il passato questi errori di ripetiamo non è che giambattista amico si era fumato la candeggina quando l'ha detto questi errori siamo portati a ripeterli se qualcuno non ci ricorda che li abbiamo fatti se noi li cancelliamo nessuno ce lo ricorderà e non li rifaremo ancora sempre nel contesto di zanzanzà è arrivato fede contro la chiesa cattolica allora permesso che io sono libera chiesa in libero stato libero stato libera chiesa quindi la chiesa deve starsene fuori dalle balle dello stato permesso che qui il discorso della fede non ci entra neanche per sbaglio se per sbaglio va in quella casa lì apre la porta sente quello che dicono scappa per cui è solo potere secolare c'entra niente premesso che almeno è caduta è caduto il velo di maia del papa di sinistra premesso tutto questo c'erano potenti argomenti da confutazione di quello che ha scritto questo ha scritto questo prelato indirizzando la premia che erano basati proprio sui vangeli su quello che mi ha detto nei vangeli in termini proprio di inclusione integrazione ribadisco se poi c'è qualche sifolo che prende la bibbia e la legge letteralmente ecco questo qui andrebbe un attimo bel tso perché se ci sono persone nel mio popolo che la bibbia studiano per capire cosa voleva esattamente dire quella frase proprio perché non è una frase che va presa letteralmente ci sarà un motivo se qualche minchione la prende letteralmente c'ha qualche problema la bibbia un libro difficilissimo da capire proprio perché non va mai preso nessuna frase va presa in termini letterali e soprattutto bisognerebbe guardare quelle originali e non quelle tagliuzzate poi della chiesa cattolica romana potete attaccarli lì no fa la strada facile e l'imu vero la chiesa cattolica c'è un debito con l'imu dello stato con lo stato italiano che ci fai la finanziaria la storia dei preti vabbè ci hanno capiti anche lì argomento facilone ma non sono connessi con l'altro capirei se non c'erano argomenti ma c'erano argomenti potevi attaccarli sull'altro solo che attaccarli sull'altro mi chiedeva una preparazione questi qui questi tweet questi po sono facili ti tirano facile consenso e facili applausi non devi neanche sforzati tra l'altro voi sapete che non solo sostengo l'idea lezzano di felico detto che per una fede si ha fatto un buon discorso alla festa del primo maggio però mettiamo un puntino su lei è facile riferendomi anche un commento che aveva letto masana in merito a quello dicendo e non scegli le battaglie che vuole indubbiamente anch'io faccio così però è più facile scegliere una battaglia che ti porta a popolarità che una battaglia che ti può portare a perdere soldi cioè fede si batte per quello sbaglio lavora con l'azienda del sorriso così non dico il nome track la stessa azienda che ti fa vedere degli spot pubblicitari che sembrano pubblicità cinese sulla questione google ecco sbaglio quell'azienda qualche problemino di diritti dei lavoratori ce l'ha problemino è come dire che l'everest è una collinetta però quella non la tocchi forse perché ti hanno fatto per un programma che dal punto di vista del programma in sé è un lassativo ontologico forse perché nel catalogo c'hanno il film di tua moglie che anche quello come lassativo non è male quindi non fare l'eroe tu scegli le battaglie che non ti producono danni ci vuole poco prendiamo un esempio banalissimo mohamed ali mohamed ali ha cominciato una battaglia che ha distrutto quasi la carriera gli ha fatto perdere una valanga di soldi quella è una battaglia combattuta con coraggio perché perdi qualcosa come quella combattuta dai giornalisti mi invito ad esempio a guardare il film di clune che è un bel film buonanotte buona fortuna la battaglia dei giornalisti televisivi radiofonici contro meccarti quella gente ci ha perso soldi ci ha perso lavoro ci ha perso tutto in certi casi tipo dal ton trambo qual è una battaglia che merita rispetto perché ti giochi qualcosa di tuo quelle fatte al comodo senza toccare veramente qualcosa che conosci bene ma che ti può portare perdite economiche è fatta sul per fare il popolare per seguire l'onda popolare è comoda e sempre riallacciandomi a questa io spero che nel dl zan vada magari a controllare alcune tue canzoni qui a ragione sgarbi sapete la parolaccia che mi era scappata verso la d'urso no il lo tempore poi ho chiesto scusa del video dopo però era una parolaccia fine a se stessa e poi perché era un'incazzatura che mi era venuta per quella storia del video con la mente carta la quella che stra parlava che poi ha fatto pure un video musicale immaginatevi che roba che roba siamo sono va a vedere alcuni testi delle canzoni di fedes sono da vergognarsi sentirle e ribadisco se uno mi dice una provocazione la scusa sempre quella provocazione vorrei ricordare che una provocazione ha portato un povero professore mi sembra di marca alcuni mesi fa a non essere più tra noi perché un testa di cazzo ha capito fischi per fiaschi Quindi assunziamo assumiamoci anche le responsabilità magari di quelle canzoni sono della vera del vero letà me le butto via non voglio più neanche sentire sarebbe un bel gesto sempre provito di bel gesto l'italia io gli ho battuto i figli di radeschi e ragazzi poi me lo dovete spiegare perché tutte le volte che ci avete in mezzo i figli di radeschi ci avete sti problemi tutto bene i giocatori italiani non hanno fatto la sceneggiata perché io ormai la chiamo così e giorni prima alcuni giornalisti che avevano urlato alla cosa vergognosa lei non fa la sceneggiata perché io non posso definire un altro modo allora io vorrei dire a camon ma anche quelli che hanno studiato la sceneggiata a me importa onestamente una pippa che uno metta giù il ginocchio quello ormai è diventato un brand è diventata una un gesto estetico un gesto d'immagine vuoi veramente combattere il problema lo devi combattere nella vita quotidiana perché se uno mi fa lì la scena mette giù la gamba poi va fuori e si comporta nei confronti di quelli che non sono come lui come come un cavernicolo allora che senso ha quel gesto è nella vita quotidiana che vedi se questi hanno capito non quel piccolo gesto che non ha neanche sto gran valore simbolico perché in America aveva un valore qui è uno scopiazzare ti mostra meno nella vita quotidiana se no è solo fuffa non basta fare una cosa fai quella cosa lì e poi ti senti la coscienza a posto no la coscienza a posto ce l'hai se nella vita quotidiana ti comporti in un determinato modo se nella vita quotidiana non ti comporti in quel modo è una cosa solo fine a se stessa e allora poi andiamo dentro nel treno più pericoloso e qui devo fare di quegli svicoli ragazzi che manco manco vi il neve con Arnù a Digione problemi di comunicazione cosa vi ho detto dovrebbero parlare tutti meno anzi dovrebbero parlare forse uno solo e invece si prosegue c'è un problema di calo degli zack zack perché? perché la comunicazione è stata una comunicazione di guano se un'azienda comunicasse comunicato su questo problema in Italia licenzierebbero le date delle comunicazioni dopo un giorno ma vedo che invece di finirla lì continuano continuano e dissequamente da domani le zone bianche e si va in giro senza lo sapete all'aperto immediatamente in questa situazione a causa della della delta salta su già uno si però se non state attenti bisognerà porca miseria non hanno ancora infatti in tempo a respirare un attimo l'aria che già tu gli vuoi mettere lo scafandro ma ti rendi conto che questi qui queste cose cosa producono? niente esasperano le persone fanno aumentare la tensione fanno aumentare lo stress la gente sta sempre peggio e capisco che uno calcula il caldo e di queste cose non ha non ha sentore perché tanto la pancia ce la piena non ci arriva ma porca miseria ma chi è sopra questa persona lo chiama e dice state zitto hai rotto i coglioni la gente non ce la fa più perché le conseguenze di questo parlarsi addosso tra questi spertoni sono appunto il caldo degli zac zac che se stavano zitti dicevano parlano uno parla uno dopo che ha raccolto tutte le informazioni parla uno sarebbe stato meglio se uno accende la televisione 10 canali 10 persone diverse che dicono 10 opinioni diverse che si contraddicono uno con l'altro che si contraddicono da un giorno con l'altro che poi si buttano le tame uno contro l'altro per sembrare più fighi secondo voi la persona media non preparata come cacchio fa a capirci qualcosa cioè datevi una regolata piantatela di parlare avambera parlate di quello che sapete ma soprattutto che parli uno solo non che parla il tizio poi parla a caio poi parla a semponio poi parla a mevio a tutti quanti a dire una cosa dall'altra la gente non sa più da che parte girarsi giustamente dice questi sono gli esperti ti viene un po' di strizza e dici ma allora aspetta un attimo io ma stiamo scherzando e poi ci si lamenta di questi risultati la comunicazione qua si è mai messa in mano a De Luca infatti De Luca le sue brave cazzate le ha già dette è ora che la finiscano ma in questo caso devo dire Draghi date una svegliata perché toccherebbe non dovete essere il pomo a dire basta avete rotto il cazzo voi i giornalisti che mi invitano avete rotto il cazzo perché è quello che è successo ragazzi dopo questa patta piona sperando che il sommo algoritmo non mi scassi le balle noi ci vediamo martedì perché domani per me già ho dei grossi problemi a tornare a casa una radio decente perché purtroppo in estate alcuni treni saltano alcuni bus saltano e io con la vista che ho ho dei grossi problemi a guidare col sole vi saluto tutti ci vediamo martedì sperando di poter dare buone notizie sull'effettiva procedura dell'assegno unico ciao a tutti